Ciao a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo episodio di Impara il Veneto con Tati. Oggi ci imbatteremo in un fenomeno molto frequente quando si impara una lingua straniera, ossia i falsi amici. I falsi amici sono delle parole o delle espressioni che sono molto simili o addirittura uguali a qualcosa nella nostra lingua madre. Nella lingua che stiamo imparando però vogliono dire spesso tutt'altro. Questo ci porta a fare delle brutte figure e a non farci capire delle persone con cui parliamo. Quindi state bene attenti quando userete queste 10 parole che ora vi spiegherò in Veneto perché non vogliono dire quello che sembrano. Prima di iniziare ci tengo a specificare che non vi parlerò dell'espressione tipica vicentina ceste. L'ho già ampiamente spiegata nel mio video su YouTube quindi se ve lo siete perso andate a vedervelo e imparerete cosa significa ceste ma solo se venite a Vicenza. La prima parola è molto semplice e sono sicura che la conoscete già e cioè ombra. Ombra non è l'ombra del sole ma è il bicchiere di vino cioè proprio l'unità di misura standard per un bicchiere di vino. Quando andate al bar quindi non dovrete dire per favore vorrei un bicchiere di vino ma sarebbe meglio dire dame un'ombra. La seconda parola è il verbo trarre. Trarre in italiano significa trarre a conclusioni affrettate per esempio. In Veneto invece trarre significa sparare. Nella fattispecie durante la stagione venatoria se qualcuno dice so di andare trarre cioè sto andando a trarre significa che sto andando a sparare che sto andando a caccia. La conoscevate? Parliamo ora della terza parola ossia cotoletta che non è la cotoletta alla milanese ma è la gonnellina. Quindi quando vedete una bambina che ha una bella gonnellina le direte quindi guarda che bella gonnellina che hai oggi. State molto attenti perché potreste finire come nello sketch di Aldo Giovanni e Giacomo quello della cadrega e della mela quindi attention alla cotoletta. Proseguiamo nel filone dell'abbigliamento e scopriamo la parola intrapoea. Intrapoea sarebbe letteralmente intrappolato ma non significa una persona chiusa in una gabbia bensì è un vestito quando è tutto stropicciato quindi intrapoea significa stropicciato. Classico guardate che la camisa tutta intrapoea quindi guardai la camicia tutta stropicciata. State attenti a non intrappolarvi nei vestiti stropicciati quindi. E se vi dicessi date una sistemada che tessi tutto sbue là? No non intendo dire sbudellato cioè con le budella di fuori non siamo così sadici così sanguinolenti. Sbue là quindi sbudellato significa, mi fa morire da ridere questa parola, sbue là significa quando hai la canottiera, la maglietta, la camicia fuori dai pantaloni e quindi sei tutto in disordine. È una frase che io penso abbiamo sentito tutti un miliardo di volte perché è tipico di quando si è piccoli essere tutti in disordine con i vestiti però anche bisogna stare attenti a non andare in giro sbue là perché altrimenti si può prendere freddo alla pancia o alla schiena e quando si diventa vecchi poi quello diventa un problema. Proseguiamo poi con taccare che significa sia attaccare come taccare un botton quindi attaccare un bottone ma nello specifico e più frequentemente significa iniziare cominciare qualcosa per esempio gothaka lavorare ho iniziato a lavorare o gothaka andare correre ho iniziato ad andare a correre quindi taccare significa proprio iniziare cominciare ma anche accendere tipo gethotaka stua hai acceso la stufa oppure tacca la televisione che scomiscia il telegiornale quindi accendi la televisione che inizia il telegiornale gethot e di conseguenza poi c'è anche staccare che è distacca tipo gethot distacca luce hai spento la luce hai staccato la luce giusto per farvi un esempio anche dei sinonimi contrari vabbè ormai dentro c'è tutto. Parliamo ora di che cos'è la candela in dialetto si dice candea primo significato la candela che si accende che si spegne secondo significato quel fenomeno atmosferico tipico della nostra torrida estate della pianura veneta ossia quando abbiamo il sole proprio sparato sopra la testa che fa caldissimo e non c'è un filo d'ombra da nessuna parte ombra del sole in questo caso e non ombra di vino per ripararci la testa quindi dire mariatosi un cofora che sei una candea che non si respira significa ragazzi oggi fuori c'è un sole talmente forte un soleone che non si riesce a respirare non si riesce a stare al sole quindi attenzione alle candele venete passo ora alla parola torte che in realtà sarebbe un verbo più un complemento oggetto grammatica allora torte non significa la torta da mangiare le torte da mangiare ma è un insieme del verbo tore più tè quindi torte se mi dico se io dico vengo torte stasera significa vengo a prenderti stasera quindi torte ricordatevi che se lo sentite pronunciare nessuno sta facendo una torta sta preparando qualcosa di buono da mangiare ma semplicemente vi stanno invitando o vi stanno annunciando che verranno a prendervi i bambini veneti vengono anche minacciati dal fatto dalla frase quando si dice vara sta attento che se vengo torte te copo che sarebbe guarda sei attento che si vengo a prenderti ti ammazzo ma questa è un'altra storia la nona parola vi servirà se vi troverete a giocare a carte con un gruppo di veneti prima di tutto vi voglio dire che noi giochiamo rigorosamente e solamente con le carte trevisane quelle che hanno riportato sul dorso il palazzo ducale di venezia non conosciamo le napoletane non conosciamo le piacentine non so quale altre carte esistano in italia noi sappiamo giocare solo con le trevisane quindi ce le portiamo sempre dietro per non essere sguarniti ad ogni modo c'è un pezzo forte nelle nostre carte che ha un nome specifico ossia la vecchia come facilmente deducibile la parola vecchia significa vecchia quindi una persona anziana una signora anziana ma per noi la vecchia è rigorosamente la vecchia de spade ossia lotto di spade il fante di spade che poi in realtà è un uomo e non capisco perché lo chiamiamo vecchia però io l'ho sempre sentito chiamare così comunque c'è anche un gioco penso solo veneto che si chiama proprio vecchia quindi di solito giocano i bambini perché abbastanza facile anche se è molto divertente anche per gli adulti quindi se vi dicono zugemo a vecchia significa giochiamo alla vecchia sarebbe ma in italiano non ho mai sentito e comunque giochiamo con le nostre carte e poi appunto il personaggio che non bisogna pescare è proprio il fante di spade no di bastoni di spade la vecchia non ho mai chiamato fante di spade si chiama la vecchia l'ultima parola che vi spiego oggi è molto importante perché è veramente un falso amico di quelli con la f e con la a maiuscolissima e cioè puito dovete stare molto attenti perché la parola puito non significa pulito come sembrerebbe pulire si dice nettare e pulito si dice netto di conseguenza puito significa bene quindi se io ti dico fa puito significa mi raccomando fai bene metticela tutta oppure anche qui bisogna stare molto attenti al tono che si usa quando si dice questa espressione perché assume quel significato che vi avevo spiegato già l'altra volta con tempo ma in arte che può essere sia positivo e sia negativo per esempio se io dico ha puito ciò puito significa sarebbe come romano andiamo bene che non lo so fare in romano comunque avete capito se io invece dico ha puito ciò puito si si puito allora in questo caso significa madonna molto bene si si veramente bene quindi dovete stare attenti al tono di voce che usate scusate ma vieni da ridere a fare gli esempi non è stato facile finire questo video perché mi sono messa a ridere da sola credo 30 volte scusate ma spiegare il veneto non è così semplice come sembra spero comunque che vi siate divertiti che non vi farete trarre in inganno dai nostri falsi amici veneti ma sono sicura invece che quando verrete in veneto troverete tantissimi veri amici se vi è piaciuto l'episodio di oggi di impara il veneto contati mettete like commentate condividete il mio video e fate conoscere la mia pagina ai vostri amici che amano viaggiare o che amano il veneto così produrrò altri fantasmagorici episodi vi auguro una buona giornata un bacione a tutti continuate a seguirmi godetevela sempre ciao ciao